Sì, è stato un buon test, i ragazzi sono messi bene sul campo, è chiaro che sul piano della concretezza abbiamo sbagliato sottoporta qualche gol di troppo, un po' di sfortuna, 4-3 traverse un palo, insomma sicuramente sono un buon bottino, ma l'importante è arrivarci e essere pronti poi all'appuntamento, per il resto poi saranno cose che miglioreremo. Tutti i ragazzi devono sapere andare a interpretare più situazioni e farsi trovare pronti, in questo senso stiamo cercando di dare più conoscenze possibili ai nuovi arrivati, perché ovviamente sul piano della conoscenza tattica sono più indietro degli altri e quindi ci sarà da lavorare. Abbiamo fatto appositamente due amiche volere avvicinate per cercare di portare tutti i ragazzi a un minutaggio importante che si avvicini ai 90 minuti della partita e cercando di farlo più volte possibile. Sì, ancora qualche errore, ma è normale che sia così, però sul piano del... si hanno giocato oggi perché ho intravisto in loro dei ragazzi che si stanno applicando e quindi mi aspetto che continuino il loro percorso graduale di crescita, con tranquillità, con serenità, però fanno vedere delle caratteristiche che sono interessanti. Stanno lavorando tutti alla stessa maniera, è chiaro che Cassini ancora sul piano tattico della conoscenza, dell'ambientamento ha bisogno di tempo, lo sappiamo, è un giovane, viene da un settore giovanile, non da una prima squadra, quindi ha bisogno di tempo, lo sapevamo, però noi ci lavoreremo con calma, senza dargli pressione e poi si aspetterà con il tempo una crescita naturale. Per quanto riguarda gli altri giovani, ugualmente, insomma, sono ragazzi molto giovani ancora che hanno bisogno di lavorare, di maturare e quindi li verificheremo strada facendo. Beh, per quello che conosciamo, come lo conosciamo, come è cresciuto sul piano tattico, sul piano della personalità, della forza, della conoscenza dei movimenti, sicuramente sì. Oggi si è presentato al gol, si è presentato, ha colpito tre pali e quindi direi che, insomma, è un ragazzo che sicuramente in quella posizione ci potrà dare una mano. Daremo modo anche agli altri ragazzi di fare un minutaggio importante che si avvicini ai 90 minuti perché poi arriveranno gli impegni di Coppa Italia e campionato, quindi cercheremo di portare tutti, come ho detto prima, a un minutaggio giusto da partita. Grazie.